Nata a Roma e cresciuta in Umbria, Greta Panettieri inizia la sua avventura musicale giovanissima a sei anni con lo studio del violino, che continua fino ai sedici anni nel Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. La musica è la sua prima passione e diventa presto una scelta di vita che la porteranno a studiare, anche pianoforte e successivamente canto. Nel 1994 inizia a studiare canto jazz con Cinzia Spata. Nel 1998 partecipa alle Clinics di Umbria jazz come cantante. Vincendo una delle borse di studio per la prestigiosa Berkeley College of Music di Boston. Nel 2000 Greta arriva a New York e invece di proseguire per Boston decide di rimanere a New York. Per fare esperienza nella grande mela dove Greta si immerge in un mondo di note e di jazz. Cantando in vari contesti dai più tradizionali ai più sperimentali esibendosi con gruppi jazz ma anche latin, funk, riti H&M and blues, bossa nova. Cantare i diversi generi musicali le permette di imparare perfettamente sia l'inglese sia il portoghese e brasiliano. Nel 2004 fonda la band Greta Sbacheri con il pianista italiano Andrea San Martino e il bassista statunitense Michael Lavalle. Nel 2005 Greta comincia a fare showcase per grandi major americane e nel 2006 diventa una universal recording artist e comincia a collaborare con grandi compositori tra i quali Phil. Galdstone autore di brani come The Last to Know di Cela Indione Save The Best for Last di Vanessa Williams. Nel 2007 firma un importante contratto con la Deca Records Universal Music Group e sino al 2008 si dedica la realizzazione del disco con il produttore statunitense Stuart Lerman. Produttore musicale del film The Aviator. Nel 2009 arriva la prima tournée europea come opening act di Joe Jackson. Nel 2010 esce negli Stati Uniti d'America The Edge of Everything il primo album dei Gretas. Baccheri per la Deca Records UMG. Al quale partecipano grandi nomi tra i quali Diane Warren che scrive per la band Uslis. Lo stesso anno Greta partecipa in un progetto internazionale come ospite e co-autrice nell'album. Di Patricia Romania, show Brasileira edito da Pony Canyon in Giappone che la porta a collaborare. Con artisti del calibro di Terry Lynn Carrington. Batterista di Herbie Hancock, Robert Irving III. Pianista di Miles Davis, Paolinho Braga. Batterista di Antonio Carlos Jobim. Nel frattempo Greta decide di tornare ad essere un'artista indipendente e registra un album dal Vivo a Zinc Bar, un rinomato Jazz Club New Yorkese nel cuore del famoso quartiere West Village con Il pianista brasiliano Cedinho Taixera. Il bassista brasiliano Itaiguara Brandao. Il batterista brasiliano Maurizio Zottarelli. Il disco uscirà nel 2011 con il titolo Brazilian Nights Greta Sbacheri Music 2011 Il 2011 è l'anno in cui Greta torna in Italia esibendosi in varie manifestazioni tra cui una serie di concerti ad Umbria Jazz. Il ritorno in Italia porta all'incontro con Gegé Telesforo. Con il quale Greta inizia una stretta collaborazione che la porterà a co-firmare molti brani nel Disco di Telesforo New Joy Edito da Columbia Records e Sony Music 2012 e in una tournée nel con La New Joy Band in tutti i più importanti eventi e festival jazz in Italia per oltre un anno. Nel 2013 con la supervisione del musicista e produttore Larry Williams. Produttore e musicista di Aliaro George I. Benson Michael Jackson Esce l'album Under Control Distribuito World Video e su tutte le piattaforme digitali dalla fine Del 2013 è in uscita fisica come è legato ad un grafico novel Viaggio in jazz è Ispirato alla vita Di Greta pubblicato da Edizioni Corsare a dicembre 2014 Nel 2014 esce Non gioco più Disco che rilegge in chiave jazz i grandi successi di Mina nel Decennio d'oro degli anni 60 Tra gli ospiti anche Fabrizio Bosso Questo nuovo lavoro Nonostante il dichiarato omaggio a Mina rileggendo i suoi grandi successi degli anni 60 Da brava A Conversazione A Si telefonando A un sound totalmente nuovo e originale È il luogo dove Greta esprime il suo grande talento unendo l'innato virtuosismo della sua voce Alla sua raffinata e poliedrica concezione musicale Le atmosfere di questo lavoro trattengono due sentimenti senza tempo Da un lato il mondo notturno Soffuso e dorato del jazz Dall'altro Il mood della canzone d'autore italiana tra i 60 e 70 Sempre nel 2014 Greta è a fianco di Sergio Cammariere in tre brani dell'ultimo disco del Cantautore dal titolo Mano nella mano Nel 2015 Greta partecipa per quattro puntate a Radio 2 Social Club come Ragazza Club Accanto a Luca Barbarossa A luglio 2015 è uscito il singolo Cesty Reparable Versione originale di Un anno d'amore Scritta dall'autore italo-francese Nino Ferrere Resa Celebre in Francia da Dalida Figura forte e, per molti versi, analoga a quella di Mina Greta Panettieri la interpreta nella lingua originale Il francese, che svela nuovi significati rispetto alla versione italiana presente nel suo album Non gioco più Il singolo è stato presentato in prima assoluta live sul palco del Blue Note Milano il 5 luglio Insieme al singolo è uscito anche il videoclip, scritto e interpretato insieme all'autore e attore Massimo Salari Che ne ha curato la regia Nel 2016 e lei sette la chiama per più di 20 puntate come ospite musicale fissa nel programma L'Aria Che Tira condotto da Mirta Merlino Nello stesso anno è autrice insieme a Geggete Lesforo e Ben Sidran del singolo Let The Children Dall'album Fans Lo Ride che diventerà testimonia Lunicef Bye 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 Bye